Non so quale altra lingua qualunque speciale Ok, guarda, sì che sono speciale Quali cazzo sono speciale? No, bisogna sistemarla Ecco, guarda Dammi, dammi, dammi nella o Aiii Dammi nella o Aiii Da cacca tua Aiii 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 Sì, sì, un attimo Guarda che bella vedere Perché se E tu non sei un amante della Della natura, per questo Questa è natura Eh beh, questa è natura Eh sì L'ho visto quando ero bambina nel 1989 Eh sì 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 Guarda, thank you thank you Allah Andami Sì Va bene No, no Ancora no Perché sono belli Sì sì Dammi la, dammi la adesso No Intanto, intanto Non è che che fa la cacca subito, più, più, più ha detto Ci vuole un po' di, di preghiera Per dire Per dire, no Unai giumatico espressione Ok, guarda Oh Ang ganda Guys Ayan Ngayon palang first time in history Nakakakita ko ng ganitong kadaming Asano na ba sila Kadaming Isda dito sa kanal Ayan, tingnan nyo Ganda Ang ganda nila talaga Ok Ok Ayan Sundan natin sila Kung saan sila iyan Hehehehe Bella, 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 bella Sì 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 Per me E questi pesci sono speciali per me Anche se non si può mangiare Perché La Sì È difficile trovare questa così E A very rare occasion That you can find Lots of visits like this here in the canal Here in the canal Oh 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 Okay Ayan Riling wili ako, gaios Ok Grazie a tutti per aver guardato il video, grazie a tutti per aver guardato il video, grazie a tutti per aver guardato il video.